Hai presente la sensazione che si prova davanti ad un tramonto? Kant sì, e l'hai dato un nome. Perché un tramonto non è semplicemente bello, no? Per Kant bello significa qualcosa di piacevole, qualcosa che riguarda l'armonia. Ma il sublime è un'altra cosa. Il sublime è qualcosa che ti fa sentire piccolo, come davanti ad un tramonto, come davanti ad un cielo stellato, ma allo stesso tempo ti fa sentire grande, perché ti eleva l'anima. Ecco qual è la differenza fra bello e sublime in Kant. Bello è qualcosa di armonioso, di piacevole. Sublime, invece, è qualcosa che ti eleva l'anima, ma allo stesso tempo ti fa sentire molto piccolo.